cosa cosa abbiamo oggi cosa è una cosa bene l'abbiamo detto prima già parlato della special edition di metroid dread link in chat per acquistare gli ultimissimi pezzi di questa meravigliosa special edition a 90,98 euro un gioco che uscirà l'otto ottobre segnerà anche il debutto di nintendo switch oled allora innanzitutto abbiamo abbiamo questo la steelbook abbiamo perfetto ci sono anche preziosissima questa serie di cartoline olografiche roba incredibile per le specie per molte special edition di quest'epoca c'è gioco ma il vero piatto ricco micifico di questa collector's edition è la cosa più bella secondo me a parte a parte dietro eh sì questo è per cazzo di solito compro le special edition per questo motivo è l'artbook esatto prego lascio alle tue alle sue sagge mandato